Se devo consigliare un libro, non consiglio un libro moderno perché se ne scrivono troppi secondo me è meglio andare nell'antichità verso i classici, magari non tanto indietro quindi io consiglierei un libro dell'Ottocento che si chiama Port Royal di Saint-Boeuf è un libro un po' lungo bisogna riconoscerlo, sarà un 2000 pagine, però vale la pena è la storia di un monastero, si chiama appunto Port Royal, nel quale sono passate è una gabbia di matti possiamo dirlo, alcuni di questi matti sono diventati famosi per esempio Pascal, Racine e così via, una storia meravigliosa che ci fa uno spaccato praticamente del 600 francese, ve lo consiglio, prendetevi un po' di tempo naturalmente però credo che ne varrà la pena Pier Giorgio Di Freddi per il Club Dante